Bisogna avere anche il coraggio di dire che questa è una manovra necessariamente sobria perché la coperta, come è stato più volte sottolineato e detto, è corta, però ci sono delle misure che certamente sono positive perché per esempio la riduzione del cuneo fiscale contributivo ci trova certamente d'accordo, così come ci trova d'accordo anche la revisione delle aliquote IRPEF da 4 a 3. Certamente noi auspichiamo che queste misure diventino strutturali così come auspichiamo anche la detassazione degli aumenti salariali e contrattuali.